Capcom ha annunciato The Great Ace Attorney Chronicles. Il gioco contiene sia The Great Ace Attorney Adventure che The Great Ace Attorney 2 Resolve, entrambi rilasciati per la prima volta su 3DS in Giappone. I giocatori assumono il ruolo di Rhinosuke Naruodo, un antenato di Phoenix Bright. Ambientati nell'era vittoriana in Giappone e in Inghilterra, ci sono dieci casi da risolvere, con un mistero generale che lega i tuoi giochi insieme. Il gioco offrirà una modalità storia che i giocatori potranno attivare e disattivare durante il gioco stesso. In sostanza, la modalità storia consente ai giocatori di lasciare che il gioco gestisca tutto, inclusa la risoluzione degli enigmi. Per i giocatori che sono più coinvolti nella trama dei giochi di Ace Attorney, questa opzione consente loro di sedersi e guardare lo svolgersi della narrazione. Ci sono anche opzioni dual audio per coloro che preferiscono ascoltare il cast vocale originale giapponese, contenuti bonus, costumi, video, una galleria e altro ancora. The Great Ace Attorney Chronicles uscirà il 27 luglio su Nintendo Switch, PS4 e PC tramite Steam. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.